Dove se n'è andato Helmer, che di febbre si lasciò morire, dove Helmer è bucciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rista, e l'altro che uscì già morto di galera? Che cosa ne sarà di Charlie, che calde mentre lavorava, e dal ponte volò e volò sulla strada? Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina.